Sindaco, ieri una notizia sconcertante per il Comune di Santomero perché il Tar dell'Aquila ha annullato l'efficacia del provvedimento di dissesto finanziario del Comune di Santomero. Sicuramente diciamo che il Tar ha sospeso con ordinanza l'efficacia della delibera di dissesto del Comune di Santomero. Sicuramente in parte ci sconcerta un po' questa situazione non tanto perché non facciamo una valutazione nel merito quanto per i problemi che creano alla nostra amministrazione e soprattutto a tutti i cittadini di Santomero che in questo momento si trovano in una situazione particolare perché noi adesso stiamo vivendo una situazione di stallo, una situazione di stallo unica in Italia perché abbiamo fatto anche le nostre verifiche una situazione che creerà dei problemi che cercheremo di risolvere nel futuro. Sicuramente fare quello che in parte osserviamo da questa ordinanza è che è una motivazione carente ed è una motivazione che ci lascia forti dubbi. Forti dubbi perché noi abbiamo diversi atti a disposizione e perché ci troviamo così sconcertati perché questi atti oggi ci viene messo il dubbio sulla validità di atti degli organi tecnici sia interni al nostro comune, degli organi di revisione esterno, di consulenti esterni chiamati a valutare la situazione del nostro ente, tutti questi professionisti di un segretario comunale che è attestato la validità e l'esistenza dei suddetti debiti e che oggi vengono sconfessati o almeno così in un primo impatto, sempre considerando una maestura cautelare, vengono sconfessati dalla decisione del TAR. Una decisione che poi presenta anche dei profili un po' di particolarità perché dobbiamo dire che il rinvio alla fase del merito nel quale si deciderà effettivamente cosa la legittimità o meno della delibera è stata fissata a dicembre del 2016, quindi a quasi due anni di distanza per una valutazione del merito e questo non può che farci riflettere. Lei ha detto che è una sentenza politica, perché? Allora, una sentenza politica non possiamo entrare sempre nel merito e nella valutazione dell'organo perché qui parliamo sempre di magistratura. Sicuramente la motivazione dell'ordinanza, come ribadito, è carente e soprattutto non toglie i dubbi relativi alla sussistenza dei debiti e soprattutto non considera un punto fondamentale, secondo noi, del dissesto del Comune di Sant'Omero e cioè la violazione del patto di stabilità che è assolutamente certificata, come dimostrata dagli atti, dal Ministero delle Economie e delle Finanze e non dimentichiamoci che poi la nostra delibera è stata posta al vaglio non solo della Corte dei Conti ma è stata posta al vaglio anche del... c'è stata la firma del decreto del Presidente della Repubblica e quindi hanno valutato anche la Prefettura la legittimità della delibera e qui si erano stanziati, aveva iniziato la sua attività l'organo straordinario di liquidazione che hanno i tre commissari. Questo solo per dire sicuramente che non è che noi abbiamo fatto o noi abbiamo preso una decisione inter-nos, cioè all'interno dei nostri uffici, ma è una decisione che invece ha coinvolto diversi organi e istituzioni dello Stato. Prendiamo atto dell'ordinanza del Tar e sicuramente valuteremo successivamente nella fase di merito i risvolti della legittimità o meno della delibera. A questo punto che succederà? Allora, a questo punto sinceramente ieri avevamo i commissari in comune, anche loro sono rimasti un po' sconcertati e diciamo che il prefetto adesso dovrà riunirsi e dovrà valutare il da farsi. Probabilmente, ma questo non lo ancora sappiamo perché attendiamo le comunicazioni, probabilmente il prefetto rimetterà in termini il comune e dovremo redigere un bilancio previsionale per l'anno 2014 e quindi continuerà l'attività amministrativa con i noti problemi che comunque non è che vengono eliminati dall'ordinanza del Tar. Un bilancio che però a questo punto potrete chiudere? Allora, dobbiamo fare necessarie valutazioni. È normale che noi non possiamo dire a priori che i debiti oggi non ci sono più. Non possiamo dire che la sanzione del patto di stabilità sicuramente è sopravvenuta una modifica normativa, quindi la sanzione da 991 mila euro, che ricordo era la sanzione al momento in cui noi abbiamo fatto la delibera di dissesto, è stata modificata successivamente l'11 novembre con lo Sblocca Italia e quindi da quel giorno la sanzione è stata ridotta a 127 mila euro, che quindi noi comunque dovremo caricare nel nuovo bilancio. Sicuramente dovremo tenere in considerazione anche tutti questi debiti e vedremo che cosa uscirà nel bilancio, giustamente rifaremo la nostra istruttoria, perché dobbiamo valutare anche qual è la situazione attuale. Una cosa importante che volevo sicuramente aggiungere relativamente alla delibera, perché non sentite molte anche da parte dell'opposizione, il fatto che noi abbiamo fatto questa, tra virgolette, scelta, almeno a parole, solo per screditare politicamente la minoranza. Ma questo non è assolutamente vero. Noi ci siamo impegnati fino all'ultimo, allo stremo, per cercare di approvare un'ipotesi di bilancio, pur che sia, e questa ipotesi di bilancio ogni volta che l'abbiamo proposta ci è stata puntualmente, ci hanno tagliato puntualmente le gambe, e faccio sottolineo questo aspetto. Noi abbiamo ricevuto in data 29 settembre, quindi un giorno prima della chiusura dei termini per la scadenza del bilancio previsionale, abbiamo ricevuto una PEC del revisore, proprio per dire le nostre parole, che ha confermo ulteriore delle nostre parole, della nostra volontà, nella quale si afferma, testuali parole, le leggo, che la Giunta era fermissimamente convinta di poter approvare un bilancio di previsione, pur che sia, addirittura in pareggio, e in vista di tale obiettivo è stata impegnata allo spasimo e vanamente l'intera struttura di ragioneria per settimane, con l'intervento di un intero pool di esperti, nonostante avesse espresso tutte le perplessità al riguardo. Cioè questo a riprova e a conferma di tutta la nostra volontà di chiudere. E sinceramente le critiche a chi dice che noi siamo stati affrettati nella nostra decisione, sinceramente le rispediamo al mittente, e diciamo chiaramente che abbiamo approvato un bilancio oltre i termini, siamo andati oltre i termini, e quindi abbiamo approvato la delibera di sesto oltre i termini. Altro non era possibile fare, anche perché successivamente abbiamo ricevuto un esposto da parte del revisore, nel quale si paventavano presunte irregolarità, non solo di carattere fiscale, ma anche di illusioni in bilancio, e quindi il nostro era un obbligo morale, oltre che di attenerci alla legge. E quello abbiamo fatto. Noi ci siamo attenuti alla legge. Grazie. 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 Grazie.